Sono piovuti scroscianti applausi sopra il palcoscenico del Teatro dei Filodrammatici di Piacenza e sulla pièce Un marito di Italo Svevo, con la regia di Enrico Marcotti, andata in scena venerdì e sabato scorsi, nell'ambito della rassegna previsioni proposta da Teatro Giocovita e Associazione Amici del Teatro Giocovita, con il sostegno della Fondazione di Piacenza Evigevano. Lo spettacolo ha restituito un intenso distillato delle nevrosi del Novecento attraverso i tormenti che si agitano nel protagonista Federico, assassino per amore, per gelosia e masochismo. Uccidendo la moglie traditrice Clara per delitto d'onore, l'avvocato spezza in questo modo ogni sua all'interna linfa vitale, riducendosi a sopravvivere all'interno di un contesto umano arido e dominato da sentimenti frivoli, falsamente esibiti o inespressivi e repressi, delineando in questo modo un mondo di ansie persecutorie che renderanno l'esistenza stessa del protagonista una malattia. Un approccio psicoanalitico tipico del grande autore traghestino, abilmente portato in scena, dando vita in questo modo, a quella che molti critici hanno definito insieme alla rigenerazione la più bella, seppur imperfetta, commedia di Italo Svevo.